Non ha rispettato il divieto di avvicinarsi alla ex compagna e sono quindi scattati nuovi guai per un imprenditore agrigentino di 48 anni che è stato arrestato dai carabinieri e adesso si trova in carcere dopo il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo. L'uomo si era visto infliggere in passato il divieto di avvicinamento alla ex in quanto accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Ma ciò, secondo la ricostruzione degli investigatori dell'arma, non gli era bastato, visto che avrebbe ripetutamente violato le disposizioni del giudice. Dettaglio che gli è costato il carcere e adesso il 48enne è detenuto nella casa circondariale agrigentina di Contrada Petrusa. I fatti che gli erano costati il primo provvedimento coprono un arco di tempo compreso tra il 2019 e il 2021, periodo in cui avrebbe vessato continuamente la ex. La donna, non riuscendo più a reggere la situazione, aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri, i quali avevano avviato un'inchiesta sotto il coordinamento della procura e una volta compiuti gli accertamenti del caso era stato chiesto e applicato il divieto di avvicinamento, provvedimento ora rafforzato, vista le presunte violazioni da parte dell'indagato.